Siamo sulla ferrovia del Metauro, la Fano Urbino, una linea che dovrebbe un po' dirigere la ciclovia, che dovrebbe collegare Fano con l'entroterra. Un progetto redatto dalla Regione Marche che però viene contestato dagli ambientalisti fanesi Enrico Tosi del Comitato della ciclovia del Metauro. Perché contestate questo progetto? Innanzitutto perché è fuori legge. Non rispetta la legge sulle ciclovie, in genere sulla mobilità ciclistica, emanata nel 2018. Quindi dice questa legge che le ciclovie devono essere sicure, agevoli per tutti. Quella invece che è stata presentata, progettata dalla Regione, per la verità sembra essere stata messa in piedi da una persona incapace di equilibrio, nel senso proprio fisico, perché vaga da tutte le parti e non segue il percorso diritto come prescrive la legge sulle ciclovie. Ma ci sono dunque le prospettive del collegamento tra la ferrovia e la ciclovia? Noi partiamo dal presupposto che la ferrovia non possa ritornare sullo stesso tracciato. Lo dicono tanti elementi, lo dice anche la stessa RFI che ha fatto uno studio che purtroppo da due anni viene tenuto nel cassetto. Ciò premesso, questa infrastruttura che è nelle condizioni che vediamo tutti quanti, può diventare un parco lineare che congiunge la costa all'entroterra, con delle prospettive interessanti anche dal punto di vista economico, perché possono nascere punti di ristoro, di assistenza. Viene poi rivalutato il patrimonio immobiliare, può attrarre tantissime persone, in particolare cicloturisti, che in tutta Italia, ma diciamo nel mondo oramai, sono milioni e hanno come meta privilegiata, una delle meta privilegiate è proprio l'Italia, che se non si dota di strutture adeguate corre il rischio di essere ai margini, come già nel nostro territorio è, perché nessuno verrebbe per esempio in una ciclovia che passa lungo la via Flaminia. Ci sono degli esempi eclatanti realizzati in altre località italiane. Leonardo Zan, che cosa si è fatto in altre parti d'Italia? Praticamente è costruito tutto un sistema di utenze, cioè oltre alla pista ciclabile, vengono utilizzati, e qui vedete che c'è ampio spazio di lato, per fare acquedotti, fibre ottiche e linee telefoniche. Esempi di questo tipo sono in Umbria, moltissimo, in Alto Adige moltissime, la ciclovia del Brennero, che è stata fatta proprio per, sia come ciclovia, ma soprattutto anche per utilizzare le utenze. Il progetto qui è stato già fatto preliminare dalla provincia, che prevede sulle rotaie, praticamente senza smontare nulla, una copertura di granulato e di asfalto modificato. Questo potrebbe essere chiaramente una linea dove possono transitare treni su gomma, trenini su gomma, che ormai sono diventati una realtà. In Italia sono varie ditte che lo fanno, le esportano anche in America, a San Francisco, eccetera. Per cui piccoli treni che possono poi circolare anche fuori, frecciato. Di lato le piste ciclabili e poi c'è ampio spazio se uno vuole utilizzarlo per le utenze, come dicevo prima. Il Comune di Fano ha recepito però il progetto della Regione Marche per quanto riguarda la ciclovia. Siamo in periodo elettorale. Cosa proponete ai candidati per la prossima amministrazione? Di utilizzare questa struttura costerebbe molto poco, è già pronta praticamente. E se vedete dal tracciato si vede i passaggi che le persone fanno a piedi o portando la bici a mano. Sarebbe estremamente sicura e collegherebbe praticamente case, fabbriche, utenze commerciali in piena sicurezza. Questo vuol dire uno sviluppo della zona.